Gentili telespettatori, buona giornata. Il giallo del vertice sul caso San Giuliano arriva poi la smentita di Palazzo Chigi. Nel pomeriggio era trapelata, al pomeriggio di ieri, la notizia di un incontro tra i leader della maggioranza, proprio sul caso San Giuliano per capire che cosa fare, ma l'ufficio stampa della Presidente del Consiglio ha negato che sia avvenuto questo vertice. Palazzo Chigi dice che non c'è stato nessun vertice a Palazzo Chigi, invece quello che si racconta è che sarebbero riuniti Meloni, Tagliani, Salvini e Lupi. Arriva tramite la smentita all'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio, era circolata questa voce, avevano visto i leader del centrodestra arrivare a Palazzo Chigi per fare il punto con Meloni sulla vicenda che ha coinvolto il Ministro della Cultura San Giuliano. Notizia poi smentita dal Premier. Probabilmente il vertice c'è stato, ma il governo non vuol far vedere che si riuniscono per questo problema. Grazie a tutti e arrivederci a presto.